Hello everyone, buongiorno ragazzi, benvenuti, anche oggi siamo qui come ogni giorno per vedere le energie generali. Cominciamo quindi con qualcosa che potete canalizzare un po' nei vari ambiti della vostra vita, poi passeremo all'amore come sempre e vediamo subito quali sono le tre carte di oggi. Una, due e tre. Ok, nove di coppe, otto di coppe e due di coppe. Abbiamo tre carte di coppe oggi. Beh, studenti, voi sapete cosa vuol dire, vero? Oggi si lavora con l'acqua, con le emozioni e sembra proprio che vada tutto alla grande. Guardate un po' che splendide carte. Giriamo anche i nostri oracolini, cosa hanno da dirci, cosa hanno da dirci? Eh beh, non dovete stare a guardare la tv troppo in questo periodo, eh? Mi raccomando, qualcuno di voi, invece di uscire e godersi le splendide giornate, sta passando un po' troppo tempo chiuso in casa a disperdere la propria energia in cose inutili, assolutamente inutili. Ora, per fortuna questa roba sta per smuoversi, perché proprio oggi o nei giorni intorno ad oggi succederà qualcosa. Non so se succederà qualcosa dentro di voi o fuori di voi che vi porterà a portare il culetto fuori da casa, ma lo farete decisamente, perché anche se stare in casa è comodo, vedete questo nove di coppe che è comodo, che sta lì dove ha tutte le sue comodità, magari ha anche l'aria condizionata o comunque a Netflix, a tutto ciò che gli serve. Ecco, no, è il momento di uscire, è il momento di andare via e cercare qualcosa di meglio e fare qualcosa di più appagante, è qualcosa di più riempitivo, qualcosa di più piacevole, con un finale felice che è quello del due di coppe, in cui in effetti riusciamo a fare quello che avevamo voglia di fare e ci piace anche tanto e ci divertiamo anche tanto. Ora, per qualcuno di voi questa roba parla ovviamente di sentimenti e di amore, perché tutte queste coppe lo sappiamo, però oltre a quelli di voi che decidono di uscire di casa per andare a passare un po' di tempo con il proprio amore, ci sono anche quelli di voi che invece utilizzano questa energia per fare qualcosa di piacevole in senso un po' più ampio, e cioè, e cioè, iniziamo a sentire il bisogno di creare qualcosa, di fare qualcosa di nuovo, di dare sfogo alla nostra creatività, questa è proprio energia creatrice che si muove, questa è voglia di fare, magari succede un qualcosa, e questo vale un po' per tutti, quindi attenzione a questo dettaglio, succede qualcosa che ci porta ad essere grati nei confronti di qualcuno, qualcosa che ci spinge in effetti a provare gratitudine o verso qualcuno o verso una certa situazione, che ci sta aiutando, che ci sta facendo stare bene, magari sta succedendo qualcosa di particolarmente piacevole, qualcosa che ci dà una spinta, uno stimolo, ed ecco che la smettiamo di sprecare le nostre energie in cose inutili, e usciamo proprio, andiamo a fare qualcosa di bello, qualcosa che ci gratifica, e non solo qualcosa di bello per noi, ma è qualcosa di bello anche per qualcun altro, quindi questa cosa riguarda anche qualcun altro, andremo a fare del bene in un certo senso, direttamente o indirettamente, potremmo proprio per esempio, ecco qualcuno di voi magari potrebbe scegliere di fare, di compiere un gesto carino nei confronti di un'altra persona, nei confronti di un gruppo di persone, o anche perché no nei confronti di se stesso, che poi è la cosa migliore, perché quando noi stiamo bene e facciamo del bene a noi stessi, è inevitabile fare del bene al resto del mondo, e trattare bene il resto del mondo, mentre invece quando siamo arrabbiati, quando stiamo male, quando ci sentiamo poco amati, è difficile voler bene agli altri, è difficile essere gentili, essere comprensivi, è difficile, quindi invece questo è proprio il caso opposto, Questa è proprio invece quella situazione nella quale sentiamo la voglia di dare parte della nostra energia a qualcosa o a qualcuno, e lo facciamo, e farlo ci fa stare bene, perché si crea quello scambio energetico bellissimo che si vede ad esempio in una delle scene finali del film La profezia di Celestino. Avete mai visto quel film? E diciamo, non è un film, quello è un documentario, quello è un qualcosa che tutti noi dovremmo guardare se scegliamo di iniziare un percorso di crescita personale. Io ricordo che la prima volta che lo vedi fu tramite uno sciamano, con cui ho fatto un percorso meraviglioso mentre ero in Messico, e ricordo che rimasi sconvolta da certe scene perché mi spiegavano, quelle scene del film mi spiegavano esattamente cosa mi stava accadendo in certi momenti, e quindi io oltre a rimanere a bocca aperta ricordo di essermi fatta delle grosse, grandi risate isteriche durante tutta la durata del film. Cioè io ridevo proprio istericamente perché avevo talmente tanta eccitazione, talmente tanta energia dentro, talmente tante emozioni per quello che stavo comprendendo grazie al film, ma che le dovevo buttare fuori e ridevo, ridevo, ridevo. Ecco, qui è una di quelle situazioni come in quella scena, in cui lui e lei si scambiano energia e si vede proprio il movimento dell'energia che si amplifica passando dall'uno all'altro. Questo è un po' quello che accade qua. Se noi condivideremo parte di noi stessi e faremo qualcosa di bello, di buono, di gentile per qualcun altro, se noi andremo verso qualcun altro o qualcuno verrà verso di noi, questo è diciamo il risultato di quello che potrebbe accadere e qualcosa di nuovo si crea. Quindi bene, 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 ma adesso andiamo a vedere più nello specifico cosa accade in amore o in generale nell'ambito delle relazioni interpersonali. Quindi se siete innamorati questa parte parla di amore, se non lo siete parla comunque di relazioni. Ah, e vi ricordo anche che sacro maschile e sacro femminile non vuol dire uomo, non vuol dire donna, sono solo le energie che noi stiamo canalizzando. Ma continuiamo, andiamo avanti. Poi ovviamente, ragazzi, se qualcuno di voi vuole o sente il bisogno di una sessione privata, scrivetemi pure o prenotate dal sito. Ma noi, ecco, stanno cadendo un sacco di carte, però eccole qua. Andiamo avanti, con un maschile che, wow, ma sono carte strane oggi, sono carte molto potenti, molto forti a livello di messaggio, a livello di energia che portano. Stella, regina di bastoni e... Oh, è uscito di nuovo il 9 di coppe, ok. Ok, energia ridondante con gossip bittersweet. Allora, qui il maschile sta per guarire qualcosa, sta per guarire. C'è gossip, si parla, si parla, si dicono cose, si sentono cose, ci sono voci che girano, cose che vengono dette, che vengono sentite, e che fa bene sentire, nel bene o nel male, ragazzi. E' bene sentirle queste cose, perché possiamo appunto venire a sapere cose che è giusto sapere, cose che ci aiutano a capire, cose che ci servono a comprendere, e soprattutto con la carta della Stella e della regina di bastoni, non solo venire a sapere determinate cose o parlare, sconfrontarsi su determinati argomenti, aiuta il maschile a prendere consapevolezza e a prendere potere, ma aiuta anche una sorta di guarigione, una sorta di ho capito, adesso sto capendo, adesso so cosa fare, non è sempre semplice e non è sempre bello quello che sentiamo o quello che diciamo, però comunque è utile, sicuramente in questo caso è utile. Dall'altro lato abbiamo un femminile con sei di spade, tre di coppe, regina di spade e cavaliere di denari con la crescita e la fede, sì. Qui c'è un femminile che sceglie, sceglie di non affrontare subito certe cose, sceglie di allontanarsi tra l'altro da qualcosa che non va bene e di pensare a divertirsi e di pensare piuttosto a godersi la vita e godersi il momento, quello che di buono e di positivo c'è. Anche questo fa parte della crescita, anche allontanarsi da quello che non va più bene ed essere pronti a cambiare strada porta a crescere, porta a trovare strade migliori, porta a vivere con più solidità e più consapevolezza quello che vogliamo. Qui c'è un femminile che punta in alto, punta molto in alto ed è soprattutto punta a cose concrete, cose realizzabili, visibili e toccabili. Non è di certo un femminile che ama le parole e le cose che non si trasformano in realtà. Le parole volano, vanno dove vogliono, mentre invece le azioni, i gesti, il costruire è quello che resta. Ed ecco che questo è un femminile che ha le idee molto chiare, ha anche la fiducia di ciò che può accadere e di come possono andare le cose, è un femminile che è anche disposto a mettere in chiaro tutto con gli altri, con chiunque gli si avvicini in questo momento, perché sa dove andare, sa come arrivarci ad avere quello che vuole. Un femminile concreto, che fa un passo alla volta e che con questi passi arriva molto lontano e arriva anche sicuramente alla sua meta. Ma soprattutto l'elemento più importante che aiuta questo femminile ad essere così rigido, direi anche, perché c'è una sorta di rigidità e di rifiuto verso tutto quello che è inutile, che è stupido e che è banale. Ecco, l'elemento forte del femminile è la fede, la fiducia, fiducia in se stessi, fiducia nella validità del progetto, nella validità dell'obiettivo, fiducia anche nel sapere di poter avere quello che scegliamo, quello che pensiamo di meritare e allo stesso tempo c'è anche la consapevolezza che dedicarsi a qualcosa di futile, dedicarsi al divertimento, dedicarsi alle cose piacevoli della vita, non è un male, non è una perdita di tempo, ma anzi deve essere parte integrante della vita. E riuscire a godersi certi momenti e certe situazioni, anche con gli amici per esempio, non solo con il proprio partner, è importante perché ci conferisce quella frequenza, quell'energia così più leggera, più frizzantina, che ci aiuta, ci aiuta in ogni percorso. Abbiamo anche una sorta di, come dire, c'è anche un'intelligenza dietro tutto questo, questo è un femminile che usa molto l'intelligenza, mentre invece il maschile in questo momento sta usando molto la forza, il coraggio, la forza interiore di affrontare le cose difficili, oltre che le cose belle. Quindi qui c'è un maschile che affronta tutto con coraggio, con sicurezza, e qui c'è un femminile che invece preferisce non affrontare certe cose, non è il momento, vuole allontanarsene da certe cose, ed è anche molto sicuro che questo sia la cosa corretta, preferisce pensare ad altro, preferisce divertirsi o magari fare qualcosa di più piacevole. Entrambi avete ragione ragazzi, tutto quello che posso dirvi è che ciascuno dal suo punto di vista ha le sue ragioni e sta facendo bene. Perché vi dico sta facendo bene? Perché quello che ciascuno sta facendo lo sta facendo sentire bene. Quindi sia il maschile sta facendo qualcosa, sta avendo un atteggiamento che lo fa star bene, sia il femminile sta avendo un atteggiamento che lo fa star bene. Dunque magari sono degli approcci diversi alla stessa realtà e alla stessa situazione, ma sono comunque due approcci che stanno funzionando nel qui ed ora. Vedremo ovviamente poi sul lungo termine come proseguirà la telenovela, cioè poi vedremo sul lungo termine come si andrà avanti in questo modo e con queste energie, con questa predisposizione o atteggiamento. Passiamo adesso all'ultima carta, passiamo quindi al consiglio angelico e vediamo cosa altro hanno da dirci. Troppe, troppe, troppe. Ovviamente ragazzi per qualunque cosa potete scrivermi, potete contattarmi. Le uniche cose che non trovate sul sito sono la pulizia energetica e la sessione di tarologia da 50 euro, quella in cui mi mandate la vostra domanda e vi mando un video di risposta con una bella analisi completa di tutta la situazione. Invece trovate la sessione di tarologia da 90 euro nel sito, quella in cui appunto ci sentiamo in chiamato video, chiamatemi, fate tutte le domande che volete. Ma prendiamo una carta, vediamo un po', con un 8 di aria. Ok, ok, ci sono abbastanza carte di spade, cioè c'è molta aria in questa stesa in effetti. Una carta che ci dice che se qualcuno ha la sensazione o ha avuto la sensazione di sentirsi un po' in trappola ultimamente e quindi ha avuto paura di agire, in realtà questo è un qualcosa che sta per finire. Soprattutto qualcuno sta proprio, grazie anche all'atteggiamento che state avendo, state proprio riconquistando la vostra sicurezza in voi stessi, la consapevolezza di essere capaci di gestire certe situazioni, di risolverle, di fare quello che è meglio, insomma. Dunque, se avete ancora qualche strascico in cui non vi sentite liberi al 100%, sappiate che questi strascichi stanno per sciogliersi e quindi fra breve a brevissimo saprete cosa fare e lo farete. È solo una questione di tempo, ma potete voi anche accelerare questo processo facendo appunto un po' di lavoro interiore, magari con qualche ripetizione, con un po' di meditazione o facendo appunto delle cose che vi fanno stare bene e che soprattutto cose che vi fanno sentire in gamba. Questo è proprio una cura per tanti malanni dell'anima. Fate qualcosa in cui siete bravi, fate qualcosa che vi fa sentire capaci in gamba e non abbiate paura appunto di agire, superatela questa paura. Ma per il resto, ragazzi, contattatemi se ne sentite il bisogno, se volete chiedere informazioni sull'Accademia o per qualunque altra cosa, io vi mando un saluto, un abbraccio, alla prossima e ciao!